Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, ben ritrovati qua nel disordine usuale, solito e a voi ben conosciuto della mia libreria. Allora, cari signori, cari signori, cari signori, questa sera, diciamo, in questo video si parla, si parlerà brevemente, nuovamente del CR42. Perché? Perché qualcuno nei commenti al mio video, al mio video diviso in due parti sul CR42, qualcuno ha dimostrato, come al solito, di non avere capito un emerito accidente di quello che ho detto. Perché? Perché è tornato a farsi vivo, a farsi sentire il mitologico signor Mele, il mitologico signor Giancarlo Mele, ve lo ricordate? Ma sì, dai, il signor Giancarlo Mele è proprio quello che, come dire, da mesi, mesi e mesi, con il suo profilo anonimo, vuoto di contenuti, ovviamente senza metterci la faccia, Contrariamente a me, ammorba, rompe le balle, si proclama, cioè si mette lì a scrivere cose contro di me, dicendo di vivere per darmi fastidio. Vuol dire che do uno scopo alla sua inutile vita, ripeto, ma mettiamola così. Allora, sentite un po', giusto un paio d'ore fa, che cosa ci scrive il signor Mele? Il video di riferimento è quello sul CR-42, la prima e seconda parte del video sul CR-42. Sentite un po', allora, il signor Mele, indignato come al solito, dice E come al solito, racconti cavolate. Innanzitutto non era la Fiat a stabilire quali aerei mettere in produzione. La Fiat produceva quello che gli ordinavano i vertici dell'aeronautica. Ah, davvero? Ah, davvero? Ah, ma davvero, davvero, davvero? La Fiat non imponeva le sue produzioni ai vertici dell'aeronautica? Allora, caro signor Mele, lei ha presente quando parlavo delle nostre forze corazzate, della meccanizzazione dell'esercito fino al 1943, questo libro, ok? Ha presente i documenti che ho citato più volte relativi all'accordo di cartello tra Ansaldo e Fiat per imporre al Ministero della Guerra la produzione in esclusiva divisa tra Ansaldo Scafi e Fiat motori. La produzione dei carri armati? Bene, caro signor Mele, ci sono più di decine di documenti che attestano come la Fiat praticamente impose al Ministero dell'Aeronautica che cosa? La produzione, l'acquisto del CR-42. Ci abbiamo questo. Praticamente la Fiat, ci sono i documenti in cui si vince che la Fiat disse praticamente all'aeronautica ci abbiamo questo, pigliatelo intanto che prepariamo il gigetto. Caro signor Mele, la realtà dei fatti è questa. La Fiat, sia in democrazia, sia nell'Italietta liberale, sia durante il ventennio, ha sempre badato solo a farsi una cosa, gli affari propri, in barba al duce, in barba al fascismo, in barba all'economia corporativa, in barba all'anticapitalismo fascista. Ci siamo? Inoltre, quando io raccontai l'episodio di quell'ufficiale inglese comandante di una colonna di autoblindo nel deserto libico e che scrisse sul suo diario siamo stati sorvolati da una squadriglia di biplani CR-42 Fiat. Non sapevo se ridere di scherno o piangere di commozione. È un episodio molto noto. Sentite cosa ci dice il signor Mele, offesissimo e indignatissimo. Sentite un po'. Secondo, di al caro ufficiale inglese, che certamente sarà stato un valente ufficiale dell'esercito, ma di aeroplani capiva poco, d'accordo che i CR-42 erano sorpassati, ma, 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 certamente erano meno veloci rispetto agli Spitfire. È vero che avevano solo due mitragliatrici e gli Spitfire ne avevano otto, ma erano molto più agili e manovrieri rispetto agli aerei inglesi. E inoltre bisogna tenere presente che le otto mitragliatrici degli Spitfire erano calibro 7,62. Signor Mele? Signor Mele? Signor Mele? Le otto mitragliatrici di Spitfire ed Hurricane non erano calibro 7,62, ma erano calibro 7,7, il 303 British R. le pallottole, le cartucce da 303, da 0, 303 pollici, da 7,7 millimetri, lo stesso identico calibro delle mitragliatrici leggere della regia aeronautica. Signor Mele, sei infarmi! Ok, dicevo, mentre le due mitragliatrici del CR-42 erano calibro 12,7, questo voleva dire che le armi dei CR-42 ingaggiavano gli aerei inglesi da distanza maggiore e per il maggior calibro quando li colpivano procuravano un maggior danno. 50 CR-42 parteciparono alla battaglia d'Inghilterra provocando l'ilarietà dei camerati tedeschi i quali dopo poco tempo impararono a rispettarli. Infatti non era raro che i nostri coraggiosi piloti avevano la meglio sugli aeroplani inglesi sfruttando i due vantaggi che ho descritto sopra. Signor Mele, signor Mele, signor Mele, signor Mele, guardi, le l'ho detto, è inutile che lei si affanni, cioè si renda conto delle figuracce che fa signor Mele per cortesia, e su via. Allora, il discorso è semplicemente questo, se lei avesse ascoltato il mio video, va bene, l'ho dovuto dividere in due parti per un problema tecnico, va bene, va bene, mi rendo conto, signor Mele, che per uno come lei è difficile, per non dire impossibile, mantenere la concentrazione per più di cinque minuti ascoltando qualcuno che parla. Però, signor Mele, signor Mele, signor Mele, caro, è evidente che lei non ha prestato attenzione al passo del video in cui dicevo che, 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 al passo del video e anche ai commenti del video in cui dicevo che un CR-42, se, come dire, un pilota inglese avesse affrontato, un pilota inglese su uno Hurricane o su uno Spitfire, avesse affrontato in duello manovrato a bassa quota e bassa velocità il cosiddetto dogfight, ecco, diciamo così, se un pilota di Spitfire fosse stato così cretino da affrontare in acrobazia un CR-42, logico e naturale che il CR-42 sarebbe riuscito a fregarlo, signor Mele, l'ho detto pure io, lo sanno tutti, lo dicono anche tanti esperti della storia dell'aviazione, da Igino Maria Coggi a Enzo Maio, da Gregorio Leggi a Nico Sgarlato, in tanti dicono che il CR-42 era assolutamente inarrivabile per maneggevolezza in combattimento manovrato, solo il problema è questo, bisognava trovare un inglese sufficientemente cretino da affrontarlo nelle condizioni che per il CR-42 erano favorevoli, a bassa quota e a bassa velocità in combattimento manovrato il CR-42 ci stava bene come un pesce nell'acqua e io l'ho sempre detto non l'ho mai nascosto caro signor Mele ma è evidente che lei non ha minimamente badato a quello che ho detto caro signor Mele caro signor Mele carissimo signor Mele cioè come dire lui continua poi il signor Mele dicendo sia chiaro una cosa non voglio sostenere affatto che i CR-42 erano migliori degli Spitfire in effetti erano pieni di difetti non avevano radar la radio molte volte dava problemi in realtà non le aveva per niente le radio il CR-42 a parte quelli da cazza notturna ma lasciamo perdere non erano affatto blindati tanto che i piloti mettevano un sacco di sabbia dietro il sediolino sentite questo è il capolavoro del signor Mele il capolavoro assoluto volevo solo sottolineare che al contrario di quello che fai tu che qualche piccolo vantaggio l'avevano e i nostri piloti che da sempre sono i migliori al mondo sfruttando i due unici vantaggi che avevano nei confronti degli inglesi non era raro che avevano la meglio metallaro non sei tu a dare fastidio a me sono io che infastidisco te signor Mele signor Mele ma quanto se lo lasci dire signor Mele lei è commovente lei è commovente nel suo tentativo di infastidio mi guardi signor Mele mi guardi guardi la mia faccia affranta dispiaciuta guardi la mia faccia livorosa e rancorosa come si permette il signor Mele di venirmi a dare fastidio guardi signor Mele le dico la verità il pensiero che lei perda gran parte del suo tempo libero a venire qui a rompere i coglioni con argomentazioni quanto meno campate in aria e assolutamente inconsistenti caro signor Mele che le devo dire ve lo ripeto evidentemente evidentemente lei caro signor Mele ha una vita talmente misera talmente vuota talmente come dire priva di qualsiasi evento interessante da aver bisogno di venire qua da me e mi creda signor Mele per me questo qui è un grande onore è un grande onore come dire poter potermi divertire alle sue spalle perché lei se lo merita signor Mele se lo merita veramente tanto guardi se lo lasci dire io l'ho sempre detto io sono a testa di cazzo io sono un ignorante con la terza media sono un'autodidatta sono uno stronzo che si diverte ok? ma lei che cos'è signor Mele? lei che cos'è? mi dica che cos'è mio caro me lo dica quindi signori per l'ennesima volta ripeto scusate le facce scusate l'importanza che do a certi personaggi che non ne meritano però ripeto quando mi tirano gli assist per segnare a porta vuota io non posso esimermi dal farlo non posso assolutamente rifiutare un simile dono dal cielo quindi grazie signor Mele grazie grazie per permettere a me metallaro sommo ottimo massimo e a tutta la cricca degli utenti del mio canale di farsi quattro sane risate grazie a lei e alle sue intemerate senza vergogna quindi caro signor Mele la ringrazio la ringrazio veramente di tutto cuore grazie 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 ancora e soprattutto grazie a tutti voi signori utenti per essere membri della congrega della banda della cricca della loggia del metallaro che tanto offende il signor Mele quindi cari signori grazie ancora a tutti voi grazie ancora signor Mele per le splendide perle che lei ci fornisce e come sempre arrivederci al prossimo video ciao